Ma buongiorno, recuperatrici e recuperatori di libri del passato. Oggi parliamo delle regole dell'attrazione di Ellis, che abbiamo nella copia dell'Einaudi da consultazione e nella bellissima prima edizione italiana dell'editore Pironti, che non è più da lettura, ma è soltanto per rendere bene il pulviscolo e a questo che serve. Allora, nel cercare di fare chiarezza sulle regole dell'attrazione vi metterò una confusione in testa incredibile perché comincerò a parlare non della trama ma della gestazione di Ellis e dei personaggi perché in Le regole dell'attrazione si può dire che Ellis mette in scena praticamente tutti i personaggi di tutti i suoi libri, molto spesso fa delle anticipazioni che ora vi vado a spiegare o almeno cerchiamo di fare un pochino di chiarezza in questa situazione che è veramente una selva, una giungla intricatissima. Allora, le regole dell'attrazione. Il protagonista è Sean, anzi, sono tre voci narranti. Tre voci narranti. Infatti la copertina dell'edizione Pironti, che riprendeva esattamente la copertina americana, metteva queste tre zoomate su questi occhioni. In romagnolo, uccion. Uccion vuol dire occhioni. E perché va benissimo tre occhioni? Perché tre sono i ragazzi protagonisti del libro, ma ce ne sono molti altri che entrano e escono, sono di passaggio. Sono Sean, sono Paul e sono Lorin. Allora, Sean è il fratello di Patrick Bateman, a cui Ellis più avanti dedicherà un romanzo a sé stante, appunto che è l'American Psycho, il romanzo di cui parleremo in un prossimo video. Quindi, Sean è il suo fratello. Poi c'è, ad un certo punto, nelle regole dell'attrazione, un'apparizione di Clay, che era già stato protagonista del primo romanzo di Ellis, meno di zero. Poi, una appunto delle tre protagoniste, Lorin, riapparirà in un prossimo libro di Ellis, che è Glamorama. E, appunto, nelle regole dell'attrazione, Lorin è innamorata di un certo Victor, che poi sarà protagonista assoluto di Glamorama. E questo è un po', appunto, la mappatura dei personaggi. Non so cosa ci avete capito, però è così. Ellis ha fatto questa cosa. Ma, torniamo alle regole dell'attrazione. Allora, sapete quando io, non so se mi seguite un po', conoscete quando io dico che è un libro che semplicemente narra la vita di qualcuno da un punto X a un punto Y. Ecco, questo libro è per antonomasia questa cosa qui. Nel senso che il libro comincia con una frase spezzata e inizia con una lettera minuscola e parte un flusso di narrazione. E così sarà la fine. Una frase spezzata che non finisce. Ok. Detto questo, abbiamo, come dicevo, tre narratori principali, Sean, Lorin e Paul. Ecco, è impostato così. Ogni personaggio racconta la sua versione delle cose. Per esempio, qui vediamo, all'inizio dice Lorin e questo vuol dire che è lei che racconta, racconta un pezzo di un evento. Ok. Sono tutto questo sul seguirsi di narrazioni. Di che cosa? Di che cosa? Chi sono questi personaggi? Sono un po' dello stesso ceto sociale del già Meno di Zero, primo libro di Ellis, quindi giovani, molto ricchi, viziati in un'università americana, quindi non più la California di Meno di Zero, ma in New Hampshire. In New Hampshire, in un freddo inverno, questi giovani, l'unica svago che hanno, ma attenzione, non è perché è inverno, è proprio la loro vita, è semplicemente attaccarsi come calamite un po' a chi ti pare di qua e di là. Cioè, sono dei veri andatori, questi giovani. Ma, ecco, secondo me la capacità di Ellis è quella di alludere, alludere in questo modo di far vedere la vacuità, tutto questo sbronzarsi, tutto questo drogarsi, tutto questo usare gli altri proprio come un passatempo, tutto questo senso di uno vale l'altro, ok? Secondo me, Ellis è molto bravo a alludere a una paradossale disperazione che risiede in questi giovani, che per quanto hanno tutto, in realtà sono molto molto sbandati, vabbè. Ok, poi si diceva un po' i personaggi, c'è una voce molto interessante, senza nome, una voce femminile, che è innamorata di Sean, che è il fratello di Patrick, che poi sarà il protagonista di questo American Psycho. Quindi lei gli scrive delle lettere e noi leggiamo le lettere che le scrive a Sean. Lettere al quale lui non risponde, quindi è un amore non corrisposto. Poi ad un certo punto c'è una storia tra Sean e Lorin che va a terminare purtroppo in un aborto che Lorin deve fare e vi leggo semplicemente quattro righe. È Lorin che racconta e dopo che ha descritto come funziona l'aborto, dice Vado in sala a rianimazione. Non importa. Passo avanti ad altre ragazze. Alcune piangono, la maggior parte no. Esco per strada dopo che Sean è venuto a prendermi, 45 minuti, un'ora più tardi. Passano due ragazze del liceo. Penso, una volta ero anch'io così giovane. C'è questo clima di malinconia, in certi punti c'è malinconia, in altri punti è anche un libro molto divertente. Ci sono punti ironici, perché quando Alice ti mette in scena dei personaggi totalmente strafatti o scoppiati, poi inevitabilmente questo è uno spunto per poi generare situazioni o comunque buffe. Ok. Quindi un libro assolutamente caleidoscopico, casi incasinato, strapieno di personaggi, strapieno di citazioni, veramente come un giro sulle montagne russe. Così. Però scritto con una fluidità del linguaggio assolutamente straordinaria, forse non con un montaggio perfetto, come aveva meno di zero, dove ogni scena è tagliata al punto giusto, dove tutto è rifinito alla singola parola. Qui magari non è proprio così, però comunque dietro c'è la mano di un grandissimo scrittore che aveva soltanto 23 anni nel 1987. Quindi regole dell'attrazione consigliato a chi vuole questa roba qua. Grazie e al prossimo video. Ciao a tutti.